Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Dentro un borsone sportivo occultato sul tetto di un garage, armi da guerra, è quanto rinvenuto negli edifici popolari del rione Moscarella di Castellammare di Stabbia l'8-4 dai carabinieri. Coperto da erbacce e da rami secchi, un borsone di tela blu poggiava su una lamiera barcollante di un piccolo box abusivo. All'interno, erosi dalle intemperie e dalle piogge ma perfettamente funzionanti, otto armi da fuoco pesanti. Un fucile d'assalto AK-47 Kalashnikov, un fucile a pompa calibro 12 e poi due fucili d'assalto di produzione austriaca, con una cadenza di tiro pari a 650 colpi al minuto, quasi 11 al secondo. Ancora un fucile a pompa con matricola a brasa, due doppiette a canne mozze, un fucile da caccia. Le armi sono state sequestrate a carico di ignoti e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate, infatti di sangue, nell'area metropolitana di Napoli. Sequestro analogo nello stesso complesso di case popolari avvenne già nel 2019. Nessuno sarà sgomberato il prossimo 8 marzo ad assicurarlo nella parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nel corso della riunione con gli occupanti degli alloggi comunali e Don Maurizio Patriciello. Il prefetto ha esortato tutti a mantenere la calma e a non protestare per evitare che la questione poi passi di competenza all'ordine pubblico. Le proteste dei giorni scorsi non hanno motivazioni a proseguito di Bari, anzi sono controproducenti perché non aiutano a trovare soluzioni. La verità è che lo Stato deve fare lo Stato e lo sta facendo. Siamo per fornire risposte non al numero delle persone, ma alle persone, alla loro dignità e io credo che tutto questo possa accadere. Certamente la casa è uno dei problemi, ma non è solo la casa. La Commissione straordinaria, il commissario stragovernativo stanno lavorando alacremente perché tutto ciò possa accadere, trasporti, perché tutto vada per migliorare la qualità della vita. Per il governo Caivano è una sfida e per questo ha messo in campo un poderoso impegno investendo parecchie risorse. Dobbiamo essere fiduciosi, sottolinea Don Maurizio Patriciello ai nostri microfoni. Ha detto delle cose importanti il prefetto, ha detto i numeri noi li trasformiamo in persone, in famiglie, cioè a buon intenditore poche parole, insomma cercate di capire bene come stanno le cose. Stiamo dalla vostra parte. Logicamente tutta questa questione della solidarietà deve essere unita alla legalità e allora ogni famiglia va presa singolarmente. La parola d'ordine che in questi giorni è passata, o tutti o nessuno, si esce tutti, è normale che non sta né in cielo né in terra. Le patologie dell'occhio più frequenti è la chirurgia della cataratta al centro del nuovo incontro La Salute in un Talk, dedicato alla prevenzione, organizzato da Sillab, SDN. Approfondite le cause, i fattori di rischio e le tecniche all'avanguardia per la diagnosi e la cura dei difetti visivi come la miopia, l'ipermetropia, la presbiopia e l'astigmatismo, l'insorgenza della cataratta, l'emaculopatie, il glaucoma e altre patologie della retina che possono notevolmente danneggiare l'apparato visivo e incidere negativamente sulla qualità della vita del paziente. Luigi Boccia, direttore regionale del gruppo Sillab SDN. Sillab con degli importanti investimenti in apparecchiature, in medici specializzati in questo settore, vuole appunto offrire la possibilità a tutti i pazienti che ne avessero necessità di poter erogare a delle tariffe sicuramente competitive e convenienti delle prestazioni d'eccellenza e quindi risolvere in maniera definitiva una patologia particolarmente rilevante che genera dei forti minus per quanto riguarda proprio il benessere del paziente. Un particolare focus all'interno dell'incontro di informazione, prevenzione e sensibilizzazione è stato dedicato invece alla problematica della cataratta, prima causa di cecità e di ipovisione nel mondo secondo i dati dell'OMS e patologia che in Italia colpisce l'8% della popolazione tra i 70 e i 74 anni, così il dottor Antonio Bonaiti e il dottor Giuseppe De Simone. Più la gioventù si incalza e più diventa difficile non avere la cataratta, è importante effettuare una visita oculistica quando si hanno dei campanelli d'alarme, prima e fra tutto l'offuscamento visivo nel tempo che aumenta. Siamo in grado di risolvere tutti i problemi relativi alla cataratta e contestualmente anche i difetti di rifrazione collegati alla cataratta. Moderne tecnologie di intervento invece e anestesie sempre meno invasive al centro delle novità presentate nel corso del talk dal dottor Amleto Felicitati. L'anestesia oggi è praticata fondamentalmente con un'anestesia locale topica, cioè con delle gocce di collirio anestetico, questo per migliorare il comfort del paziente, per rendere il recupero visivo più rapido e soprattutto perché fondamentalmente un ago nell'occhio fa sempre un po' impressione. E' la scuola Tito Minniti di Fuorigrutta ad aggiudicarsi il primo trofeo Volley Cup di pallavolo. Gli studenti del 91esimo circolo hanno battuto in finale, nell'ex palestra Scuole P e Palasport di Fuorigrutta, i pari grado della Michelangelo sconfitti però solo per il numero di punti realizzati dalla Minniti nei set giocati, visto che le due partite erano terminate 3-0 e 0-3, quindi in parità. Organizzato dalla Flegrea Volley Academy diretta da Luca Loparco, il torneo nasce con l'idea di promuovere lo sport della pallavolo sul territorio della decima municipalità e portarlo all'interno delle scuole medie e prossimamente anche in quelle elementari. L'idea, spiegano Loparco e Gennaro Desimone, direttore sportivo della Flegrea Volley Academy, è che questa coppa diventi un appuntamento annuale in cui gli istituti si possano confrontare a livello agonistico e, perché no, costruire anche un campione per il futuro. Cerchiamo di promuovere sotto tutti gli aspetti lo sport. Questo secondo anno abbiamo dato vita a questa Flegrea Volley Cup che ha l'obiettivo sempre della promozione della pallavolo però all'interno degli istituti scolastici e abbiamo invitato la Minniti e la Michelangelo a fare una giornata di sport assieme a noi. Penso che sia andata benissimo e spero che i ragazzi si siano divertiti tantissimo. Noi abbiamo dei gruppi che partono dalla S3, che sono i bambini del Minivolley, a finire ai ragazzi più grandi che arrivano anche a 16-17 anni. Abbiamo già quest'anno un buon numero di partecipanti e stiamo facendo il campionato Under 14 femminile, Under 15 maschile, Under 16 femminile e ancora il campionato di terza divisione Under 17 maschile. Il nostro obiettivo è far crescere i nostri giovani qui in palestra con noi ed eventualmente arrivare anche a campionati di categoria più alta, ovviamente cercando di portare avanti i nostri prodotti, i prodotti del nostro vivaio. A premiare i vincitori il vicepresidente della decima municipalità nonché assessore allo sport Sergio Lomasto. È stupendo vedere dei ragazzi gioire, dei ragazzi che nella quotidianità condividono i banchi di scuola, essere qui e gioire assieme anche con degli avversari, altri coetanei che sono qui per lo stesso motivo, che è quello di fare festa, di fare sport. Lo sport a livello di quartiere, a livello di municipalità ha una valenza duplice, forse triplice, una valenza importantissima perché riguarda anche, soprattutto in questa fascia di età, l'inclusione scolastica. Fare sport significa crescere bene, crescere sani, crescere lontani da tante dinamiche che spesso la strada riserva. Quindi questo è il messaggio più bello, sapere che c'è un modo diverso per divertirsi, c'è un modo sano per crescere, che è quello appunto di fare sport e di farlo anche condividendo la scuola e quindi quelli che sono le ansie, le perplessità di una fascia d'età già di per sé così sensibile. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.